Bollette moltiplicate per nove in due anni. I commercianti e piccoli artigiani lanciano l'allarme dalla fiera campionaria di Senigallia in corso fino al 4 settembre. Possiamo resistere altri due mesi, dice la CNA, non di più. Guido Maurino. Nel 2020, riferito al mese di giugno, pagavo 52 euro, nel 2021 154 e nel 2022 457 euro. Marco Verdenelli ha una rosticceria a Senigallia e se la bolletta del gas è aumentata di nove volte in due anni, per quella della luce non è andata molto meglio. Dai 149 euro al mese del 2020 si è saliti ai 364 del 2021 fino ai 501 euro dell'ultimo mese. Oggi, come altri 50 espositori, è qui alla fiera campionaria di Senigallia che compie 30 anni. L'estate è stata positiva, il turismo tira, si mangia, si spende e non si pensa all'autunno, ma sul futuro pesa l'incertezza. Questo fenomeno si sta tramutando comunque in un fenomeno inflazionistico importante che bloccherà sicuramente i consumi tra qualche mese se non avrà messo un tetto al costo dell'energia. Le piccole aziende artigiane e il commercio arrivano da due anni complessi. Prima il covid e le chiusure, poi è stata la volta delle difficoltà di reperire materie prime. In questo momento il problema energetico arriva proprio quando stavamo cominciando a alzare la testa o cominciare a trovare un modo per sopravvivere a questo tipo di problematiche e si rischia di stoppare un percorso importante specialmente per l'assunzione di nuove persone all'interno dell'azienda. La ripresa, insomma, rischia di fermarsi sul nascere, nonostante il tentativo di non scaricare gli aumenti dei prezzi sui consumatori. Cerchiamo di tenere i prezzi in linea il più possibile, poi vedremo con il mese di agosto perché anche quella sarà una bella batosta. L'allarme generale che ci arrivano dalle imprese è che più di due mesi non reggerebbero questo ulteriore aumento del costo delle materie prime, del costo dell'energia.